a prendere le lezioni di batteria allora fai finta che tu non hai mai perché tu non sai niente di batteria almeno di quello no? io della batteria dai la soglia dai la soglia allora tu chiedi da quanti anni cioè facciamo perché voi il batterista lo dico sempre è quello che fa più fatica perché si deve caricare guarda sono anche i compenzi si deve caricare la gas il ton, l'alcolon il mafitti, il charleston il neoprolatiche le montaglia, il crash eccetera eccetera quindi questo è un lagerista o mi guadagna di più bisogna fare un sindacato per il batterista allora lui dice questo che ha iniziato a prendere lezioni di batteria quindi è convinto che la batteria sia uno strumento difficile ovviamente lo è, sappiamo che sono tutti difficili dal tuo punto di vista da quant'è che studi e ovviamente da quant'è che puoi pratici allora io sono 4 anni che da suono inizia un'auto di carta e poi ho iniziato a prendere lezioni di batteria e niente in pratica vi avrete molto pensato del ritmo perchè ti metti il ritmo sui per tenere il prodotto alla pelle ovviamente se tu che ti riguarda i tempi dall'inizio della canzone quindi veramente se sbagli tu e questo dobbiamo dirlo è colpa tua se sbagli cioè è ovvio la colpa è sempre del batterista Emilio quindi quando vai a fare lezioni ti dico che se sbagliate ti dico il nome presentati però io sono Lorenzo e io sono il batterista ma quant'è che questo gruppo va avanti? l'agosto del 2003 quindi non è nemmeno un anno però fresco beh comunque noi qualcosa abbiamo sentito quindi diciamo che vabbè no? non è che mi sciogliete stasera no? molto rompato allora un'altra cosa importante visto che abbiamo fatto una messaggeria stasera vi ricordi i nomi che sono stati affidati a questi due ragazzi compreso te? allora io sono il batterista e sono crugna il passista è Susina e il chitarista è Cagli quindi chitarista Cagli lui voleva la banana però non aveva avuto la possibilità di taglierla perché l'hanno già presa insiste insiste